Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi, grazie per essere presenti a questa prima conferenza stampa che facciamo come Radio Sorriso per questo primo concorso. Io sono Roberto Gionario, direttore artistico di Radio Sorriso. La giornata di oggi per noi è molto importante, perché vi presenteremo adesso questo primo concorso che riguarda autori, riguarda orchestre e soprattutto il mondo del canto, del bel canto dei giovani, delle nuove rivelazioni di questo genere musicale. Radio Sorriso è una radio che è nata nel 1998, segue un segmento di musica e di canzoni un po' particolari, cosiddette una volta musicalisce, oggi più musica da ballo e siamo, diciamo, delle sei radio presenti in questi studi in ordine, cioè forse la più giovane, non la più giovane, però insomma una che copre un segmento che forse mancava proprio al nostro editore, ossia quella degli under, cioè over 45-50. I nostri generi musicali sono la classica mazzurca, polca e via, che ultimamente in ultimi anni sono anche un po' aggiornati con stili molto diversi, più attuali, più moderni e via. Abbiamo pensato di organizzare questo concorso grazie anche al contributo di Franco Zanetti, che è qui alla mia destra e alla intuizione del nostro responsabile di edizioni Paolo Verlanzi, perché ci sentiamo in grado dopo, dunque del 98, 2008, dopo 17 anni, ci sentiamo in grado di essere pronti ad organizzare una qualche cosa che ci dia lustro alla nostra radio, ma non solo, ma che dia la possibilità anche a autori, di orchestre e giovani interpreti di venire fuori, insomma, è giusto coprire uno spazio, un vuoto, che secondo me, come ho scritto nella mail dei giorni scorsi, in certi casi è anche voluto, no? Se noi pensiamo che cosa sposta questo movimento, questo genere di musica da ballo, in estate ma anche in inverno, come persone che frequentano, che si offriscono in questo servizio e che poi sembra che non esista, perché i media a livello nazionale proprio trascurano questo movimento, insomma, credo che sia giusto fare qualche cosa per far capire a chi magari non è a vezzo di queste cose che esiste, che esiste appunto questa categoria di persone, esiste questo movimento di gente che lavora, perché le orchestre sono gente che lavora, che fa per l'attività, che svolge questo lavoro, di autori che, insomma, non sono assolutamente autori di serie B o di serie C, ma sono persone che dedicano tempo e quant'altra attività per scrivere, per mettere giù brani e quant'altro, e di cantanti, sia i giovani ma anche i cantanti che magari da qualche anno sono sul palcoscenico, che con passione prima di tutto, ma con professionalità, ogni sera si presentano alla vista di chi fruisce di questo genere musicale. Noi qui oggi abbiamo appunto Ilenia Gai, che oltre ad essere la madrina, rappresenta proprio il settore delle cantanti di questo genere. Altra cosa da dire, che, niente, per quel che mi riguarda, è un qualche cosa che mi riempie di orgoglio tutto questo. Io sono qui a ringraziarmi a tutto Paolo Verlanzi, che mi ha dato questa grande opportunità, e poi Franco Zanetti, che ho conosciuto di recente e che, insomma, ha fatto sì che tutto questo possa avvenire. Dunque, ho dato un piccolo, così, ho fatto una piccola introduzione di quello che è questa cosa, però vorrei magari dare la parola a Paolo, a Franco prima, a Paolo come editore, che dopo, insomma, in qualche modo passeremo la parola a Paolo. Sì, giusto per la presentazione, dicendo appunto il lavoro che svolgiamo all'interno della struttura radio, il mio ruolo è quello di rappresentare le edizioni musicali e di conseguenza poi anche avere il contatto con tutte le orchestre che gravitano attorno a Radio Sorriso, avendo fatto anche altre, cioè, parecchie operazioni anche discografiche con le orchestre, ripeto, più importanti del territorio. Orchestre che cercheremo, anzi, siamo convinti di riuscire a convincere, a partecipare a questo concorso, e poi magari ne daremo notizia tramite il sito, tramite Facebook, quindi il mio ruolo è quello dell'editore, quindi filo conduttore, diciamo, sotterraneo di tutti i giochi che si possono fare a livello discografico ed editoriale. Dico solo che la cosa che mi ha spinto a fare questa collaborazione e ad avviare questo concorso è la possibilità, e adesso andremo nello specifico facendo parlare anche Franco e di Lenia, di fare entrare nel mondo del ballo, che è un mondo abbastanza circoscritto, autori e compositori che ne hanno solo sentito parlare. Vorrebbero farlo, magari l'hanno fatto per grossi artisti, hanno composto delle canzoni che hanno anche partecipato magari vincendo Sanremo, però nel mondo del ballo non si sono mai cimentati. Questa è la nostra sfida ed è quello che puntiamo a fare e ovviamente chiediamo l'appoggio anche di tutti gli addetti ai lavori importanti che sono le orchestre, gli interpreti. E a proposito degli interpreti passo la parola a Lenia. Mi raccomando che sei la madrina. Allora, felicissima di essere la madrina di questa nuova manifestazione. felice, finalmente, che Radio Sorriso abbia indetto questo concorso, che insomma è una radio specifica appunto del settore della musica da ballo, e dunque sarà sicuramente un successo. Mi auguro che le orchestre partecipino a questo nuovo concorso e soprattutto guardavo appunto anche il discorso dei giovani, degli under 35, che sicuramente ci saranno delle nuove proposte molto interessanti. E poi soprattutto gli autori di canzoni che si sfoghino, che scrivono, che scrivono belle canzoni che poi appunto si potranno interpretare al meglio. Ecco. Dunque, buona fortuna a tutti. Grazie, Lenia. Allora, Franco Zanetti, posso farti una domanda io? Se te la posso fare. Il primo di tutti? Puoi fare così. Te l'ho detto, te l'ho chiesto anche il seno in diretta. Che c'azzecca Franco Zanetti con questo concorso? Io faccio il giornalista da più di 40 anni. Mi sono sempre occupato di musica e nel mio passato c'è stata anche un'esperienza nella discografia. Quindi ho avuto anche un negozio di dischi. Quindi di quello che è musica ho fatto tutto, tranne fare il cantante, fare il musicista, perché non sono un artista. Ho quasi sempre gravitato nell'ambito della musica, diciamo così, pop e rock. Ho un sito che si chiama Rock Hall, che si occupa in generale di musica pop e rock italiana e internazionale. Ma ho sempre avuto la curiosità personale, pur non essendo un ballerino, perché non so ballare niente, di conoscere più da vicino il mondo di quello che una volta si chiamava liscio, ma che adesso più correttamente si chiama musica da ballo. Ho già avuto una piccola esperienza, durata un anno, nel 1995 con Caterina Caselli, che aveva avviato, credo che qualcuno forse se lo ricordi, aveva avviato un'iniziativa con una sua casa editrice, la Daniele. L'esperienza poi è finita perché Caterina ha incontrato Bocelli, si è distratta e ha seguito anche comprensibilmente la carriera di Bocelli. Però mi era sempre rimasta la curiosità di mettere un po' il naso da professionista curioso nel mondo della musica da ballo. E un paio di anni fa, dato che negli ultimi anni mi sono dedicato soprattutto agli autori, ho un concorso per autori di musica pop realizzato col Comune di Genova, faccio degli stage, faccio dei seminari, eccetera, mi sono chiesto, oziosamente, come mai gli autori di musica, di canzoni pop, non scrivano canzoni per l'orchestra. E me lo sono chiesto non solo dal punto di vista artistico, come mai non gli viene in mente, ma anche dal punto di vista economico, perché, come dicevo ieri sera in diretta e in radio, gli autori del pop non lo sanno che se scrivi una buona canzone, una canzone di successo per le orchestre, quella canzone ti rende di siae molto più che una canzone di successo per un cantante che la canta solo lui. E ogni volta che incontro un autore di questi, e glielo dico, resta visibilmente stupito, e lì ho cominciato a chiedere, ma perché non chiedo a loro di scrivere canzoni per quell'altro mondo? Non è facile, perché non hanno la competenza necessaria, non sanno bene che una canzone da ballo deve essere principalmente ritmo, cioè deve corrispondere alla possibilità di essere ballata. E quindi, anche in questa prima edizione, credo che avremo bisogno di spiegarglielo bene, o addirittura di prendere le loro canzoni, e poi di affidarle a qualcuno che le risistemi un po' per renderle ballabili. Però mi interessa proprio capire se spostando autori che non sono abituati a scrivere musica da ballo si possono avere dei risultati interessanti. Io, nell'altro senso, vedo che succede, vedo che ci sono canzoni scritte per il pop che le orchestre riprendono, sistemano e rendono ballabili. Ma sono canzoni scritte per voci di cantanti pop. Mi piaceva l'idea di provare questa cosa. Siccome sono, come dicevo, curioso e sperimentatore, ho provato a fare questa cosa insieme a Marco Fortunato, che è un amico, un collega, che da sempre gravita nel mondo della musica da ballo. Abbiamo trovato parecchi autori interessati, parecchi, vuol dire una quindicina in un mese e mezzo di diffusione della notizia. Ma non abbiamo trovato cantanti. La nostra prima idea di concorso si chiama D'altro canto proprio perché è riferita a chi di solito canta altre cose e in questo caso lo invitiamo a cantare per l'orchestra. Cantanti non li abbiamo trovati. Io credo che sia colpa dei cantanti, che come gli autori non sapevano che scrivendo una buona canzone da ballo la si ha e è contenta e sono contenti anche loro, credo che i cantanti siano ancora, i cantanti giovani siano un po' troppo legati all'idea che è più facile diventare famosi andando a fare un talent show piuttosto che trovare un buon lavoro vero diventando il cantante di un'orchestra che lavora per i prossimi anni regolarmente. E' difficile dirglielo. E parlavo di queste cose con Paolo, con Paolo Verlanzi, col quale siamo conosciuti nel mondo del pop, perché lui mi aveva invitato al festival show e io ero andato a fare la giuria un paio di volte al festival show. E quindi è lui che mi ha detto beh, perché non proviamo a farlo insieme? Io volentirissimo ho conferito il titolo d'altro canto a questo concorso che è un po' più ampio, ma certamente avendo loro la competenza, la conoscenza, i contatti, sia dal punto di vista dei contatti con l'orchestra già fermata, sia dal punto di vista della ricerca di possibili seconde voci di orchestra o voci nuove che siano interessate a cantare per l'orchestra, credo che loro siano i partner ideale. E quindi sono qui oggi a festeggiare il fatto che d'altro canto riparte dopo quella che insomma non mi vergogno a definire una falsa partenza, perché siamo partiti e ci siamo fermati, ripartiamo molto più convinti e molto più contenti che questa prima edizione, se non altro, possa dare dei buoni risultati. E come si dice, se poi alle gambe va, magari fra dieci anni ci troviamo a festeggiare la decima edizione di nuovo qui e magari avremo anche contribuito a creare nuovi successi nelle canzoni e nuove persone di successo fra i cantanti. Bene, grazie Franco, adesso darei la voce a voi che siete qui in veste di giornalisti e poi anche voi come televisione se avete qualche domanda da fare. Qualcuno vuol chiedere? Confesso che non sono molto esperto in questo settore di nicchia, però essendo il direttore responsabile della radio, mi fido della direzione artistica di Roberto Gennaro e della sapienza editoriale di Paolo Ebernazzi, però chiedo, cosa significa direttore per Radio Sorriso questo concorso? E a chi è rivolto? Giorgio Volpato, sì. L'ho detto prima, magari forse tu non c'eri. Per noi significa qualche cosa, cioè è la maturità, praticamente, è la maturità, perché l'anno prossimo dovremo compiere 18 anni, mi sembra, non so, come radio. È un segnale di maturità, è un bel impegno, è un bel impegno, è un bel impegno, ed è un qualche cosa che ci mette in luce a livello nazionale, perché, insomma, Sorriso copre un paio di regioni, forse anche un po' di Lombardia e di Emilia, ma principalmente Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma grazie a questo concorso qui ci dà un risalto nazionale che non è poco, insomma, per noi, insomma, per essere una radio... Diciamo che la terza radio del gruppo, come scorti, una bella nicchia di... la musica da quale non morirà mai. Sì, sì, questo è vero, sì. Al di là di qualche fighetto che no, che dura lo spazio di un mattino e poi sparisce. Questa musica da quale non morirà mai, per cui... Sì, il nostro settore, insomma, è florido. Ovviamente viviamo anche noi nel mondo di tutti, dunque, insomma, non è che possiamo dire uscire con le bandiere, sventolare i 420 e via. Però, diciamo che è ancora uno dei pochi settori che resiste, insomma, perché la gente ha bisogno di divertirsi. Non possiamo stare chiusi in casa, giorni e notte e via, insomma. La gente a sabato e a domenica vuole uscire a divertirsi. Dunque, noi siamo qui apposta per far sì che questo continui, insomma, nel tempo. Provo altri due secondi a prega. Chiedendo, no, tu hai appena detto, no, è un atto di maturità della radio, no? Arriva adesso proprio per questo? Cioè, volevo chiedere, perché solamente adesso? Proprio per questo? Perché solamente adesso non è facile da rispondere, anzi, la risposta ci sarebbe, e sarebbe molto lunga e anche un po' erzigogolata. Diciamo che, forse la cosa l'ho detta prima, perché siamo arrivati a una maggiorità, però, voglio dire, cioè, io sono, io parlo come Roberto Gennaro, non come direttore di Radio Sorriso. Sono uno molto pragmatico, cioè, difficilmente mi espongo se non vedo le cose, cioè, non riesco a capire se le cose funzionano o non funzionano. Io con Paolo, e Paolo ne testimone, di questa cosa qui ne parlavamo già tre anni fa, mi sembra Paolo. Tre anni fa, tre anni fa. E entrambi, comunque, non ci sentivamo ancora in grado di poterla affrontare, una cosa del genere. È chiaro che ci mancava la spinta, che è arrivata grazie a Franco, a Franco Zanetti. Però, insomma, già le nostre due, le nostre idee le erano già, bastava solo un po', limarle un po'. E poi è arrivato lui, insomma, abbiamo fatto qualche cosa che, secondo noi, è bello. Andiamo a fare qualcosa di diverso rispetto... Rispetto agli altri. Il competito. Il competito. E poi, forse, lo dico senza cognizione di causa, anche perché, insomma, non seguo le altre cose, però, insomma, ho questo sentore, forse andiamo a coprire un vuoto, insomma, che resterà, perché qualche competitor in qualche modo ha ceduto il passo. Ma io non lo faccio per quello. Noi lo facciamo perché, ripeto, dobbiamo dare, far capire all'Italia che c'è un mondo, un settore, quello della musica da ballo, che sta investendo, ha investito e sta producendo. Che questo è molto importante, sta producendo. Un occhio rivolto ai giovani, in modo particolare, appunto, con il concorso, perché vogliamo che crescano anche le giovani. In realtà, vogliamo che i ragazzi, che le ragazze o i ragazzi giovani si avvicinino a questo mondo attraverso il canto. E poi gli autori, perché, insomma, è giusto, come diceva Franco, farne fuori anche gli autori che magari scrivono qualcosa di pop, ma che magari potrebbero avere delle idee anche per il nostro mondo. Io volevo solo chiedere se ci spiegate, mi pare l'iniziativa molto interessante, se ci spiegate come funziona il concorso, cioè come vengono le selezioni e come è strutturato. Allora, il concorso avrà una durata, un arco temporale abbastanza lungo, perché inizia con le iscrizioni alla metà di gennaio e le iscrizioni sono aperte alla categoria Autori e Compositori tramite il sito e la mail che adesso comunicherà Franco Zanetti di D'altro Canto, perché la commissione di questo concorso sarà presieduta e gestita da Franco Zanetti. E quindi per la categoria Autori e Compositori apertura e iscrizioni il 15 di gennaio, chiusura e iscrizioni alla fine di marzo. Poi la commissione artistica, spiego bene quello che è il concorso per gli autori e i compositori intanto. La commissione artistica si raggrupperà, sceglierà le otto canzoni, diciamo, finaliste di questo concorso, che verranno sottoposte alle altrettante orchestre di rilievo top level, le chiamo io insomma orchestre rappresentative del panorama italiano della musica da ballo, che le faranno proprie, le realizzeranno, e poi dalla fine di maggio, presumibilmente metà maggio, fine di maggio, queste canzoni saranno divulgate, cominceranno una divulgazione radiofonica, una programmazione radiofonica, atta a determinare poi il gradimento degli ascoltatori. Questo finirà alla fine di settembre, quindi avremo tutta l'estate per ascoltare le canzoni, per farle proprie, per ballarle, per votarle, di conseguenza alla fine di settembre ci sarà una graduatoria che verrà poi divulgata durante la serata finale, questa finalissima, questa serata di gala che verrà fatta in un locale da definire, al momento non abbiamo ancora né la data né il locale, ma sicuramente sarà verso la metà di ottobre, alla quale parteciperanno le otto orchestre finaliste con le otto canzoni in gara. Ci sarà una giuria che poi appunto decreterà, tenendo conto anche della votazione durante l'estate, decreterà la canzone vincitrice di questo contest, chiamiamolo contest, canzone vincitrice, è un po' il vecchio spirito del Festival di Sanremo, ne parlavamo ieri sera anche con Franco, cioè focalizzare quella che è la canzone più che l'orchestra. È chiaro che l'orchestra poi la farà sua, la interpreterà, e tutto questo verrà premiato con il Sorriso d'Oro, questo trofeo che il nostro editore mette a disposizione per la canzone vincitrice, barra orchestra. Poi c'è la categoria Voci nuove del ballo, stessa cosa come arco temporale per le iscrizioni, quindi da metà gennaio alla fine di marzo, si possono iscrivere cantanti, donne e uomini under 35 che abbiano più o meno esperienza con il lisho, non ci interessano, l'importante è che vogliono fare questa esperienza. Ci manderanno tramite il sito di Radio Sorriso, adesso da metà gennaio appunto avremo la pagina dedicata per iscrizione, foto, video di un'interpretazione, i vari dati per iscrizione, e anche qui una commissione deciderà quelli che saranno i finalisti. I finalisti del concorso Voci nuove del ballo saranno sei e canteranno della serata finale sei, chiamiamole hit, o comunque canzoni famose di artisti pop, quindi canzoni importanti a livello pop, rivisitate per il mondo del ballo. Questo è un po', quindi praticamente faranno gli interpreti di qualcosa che già esiste. Sempre nella serata finale di metà ottobre, esatto. Tutto quello che ci siamo detti farà parte anche di, speriamo, un programma televisivo, che poi ne parleremo anche con i presenti, e quindi l'idea potrebbe essere quella proprio di andare anche in diretta televisiva con questo galà, e anche farà parte di una compilation CD in distribuzione nazionale che si chiamerà Radio Sorriso e canzoni volume 1, barra d'altro canto, insomma. Queste cose comunque sono previste, le faremo, poi magari le notizie più specifiche le daremo strada facendo. Penso di aver detto quasi tutto. Presenterà Roberto Gennaro. È importante da dire, tu iscrivete. Ah, ecco, brava. È molto importante. È importantissimo, visto che è la prima edizione, concorsi ce ne sono molti, cerchiamo la qualità, e la qualità a volte va cercata anche nella quantità, noi faremo la prima edizione, abbiamo deciso di fare la prima edizione con iscrizioni completamente gratuite. Quindi, sia autori che cantanti che si iscrivono non dovranno pagare quote di iscrizione, insomma. Ecco, tutto lì. Questa è un'apertura di credito, che diamo. No, io dico volentieri a questo proposito che io, Marco Fortunato e Giorgio Giardina, che eravamo i tre che si sono inventati inizialmente questo concorso, avevamo ricevuto iscrizioni da parte degli autori ed erano iscrizioni che erano costate 35 euro. Quando abbiamo deciso di sospendere il concorso, credo con un gesto assolutamente inedito, abbiamo restituito i 35 euro che avevamo ricevuto via PostePay, via Paypal e questi ci dicevano ma perché ci li date i soldi se il concorso ricomincia, però abbiamo preferito restituire tutto e quindi tutti quelli che si erano iscritti riceveranno l'informazione che il concorso riparte e che stavolta possono iscriversi gratuitamente. Gratuitamente perché noi eravamo tre e facciamo tutti un altro lavoro e un minimo di persone dovevamo pagare per la questione organizzative e segreteria. Qui c'è una struttura più che consolidata e Paolo e Roberto hanno detto sì però primo anno facciamolo gratuitamente. io in generale sui concorsi sul gratuito ho delle perplessità perché succede che poi dopo si iscrive chiunque si iscrive la qualunque però sappiamo che questo costerà più lavoro alla commissione perché dovrà ascoltare più materiale non c'è nemmeno il piccolo filtro del dover mettere qualche decina di euro però va bene così se come siamo ragionevolmente convinti la prima edizione andrà bene probabilmente alla seconda ci sarà più attenzione ci sarà più gente e vedremo ragioneremo poi se sarà un grande successo non ci sarà bisogno di far pagare le creazioni è chiaro che la commissione si assume un compito più faticoso perché se ti arrivano 20 canzoni le ascolti in un pomeriggio se ne arrivano 200 le ascolti in una settimana io ho fatto Area Sanremo le selezioni di Area Sanremo erano 300 cantanti quest'anno siamo stati una settimana a Sanremo a sentire i cantanti è tosta è faticosa però insomma a tutti noi piace la musica a tutti noi piacciono le canzoni chiedevi se gli assenatori divertivano quante le hanno ascoltate che quest'anno per tirare fuori 12 per tirare fuori 12 ve l'immagine ecco quindi no ci tenevo a dirlo che anche noi che eravamo partiti con l'idea di far pagare poi abbiamo restituito tutto e adesso diremo la ragione per la quale l'apertura ufficiale il 15 gennaio è che ci prendiamo questi 20 giorni di tempo per dire agli iscritti della prima ora se volete potete riscrivervi c'è un indirizzo e-mail al quale inviare l'MP3 e il testo della canzone l'indirizzo e-mail è concorso d'altro canto è scritto qua no no l'indirizzo e-mail è tutto attaccato senza apostrofi senza niente concorso d'altro canto chiocciolagmail.com per gli autori per gli autori si mandano la canzone e credo che sia pleonastico però diciamolo lo stesso la commissione non valuterà assolutamente la qualità del canto di questa canzone noi gli consideriamo dei provini quindi se gli autori la vogliono cantare loro va benissimo non c'è bisogno che facciano una registrazione con un cantante vero crediamo di avere sufficiente esperienza per capire se una canzone funziona anche se non è cantata benissimo quindi invito anche a non andare a spendere soldi inutilmente pensando che la qualità finale della registrazione o addirittura dell'arrangiamento influenzi più di tanto cercheremo di ascoltare le canzoni con i criteri che dicevamo che siano testi coerenti con i testi con i testi che si aspetta di sentire il pubblico che va a ballare e quindi non necessariamente i testi che assomigliano a quelli delle canzoni pop che abbiano un ritmo quindi che lo siano o che desiderano diventarlo perché appunto io non credo che io sto parlando con autori domenica mattina ho proposto di iscriversi a un autore che ha vinto Sanremo con una sua canzone non stiamo andando dagli autorini quindi perché ci interessa capire davvero se i due mondi possono non dico mescolarsi ma incontrarsi almeno per un po' di tempo su questo territorio comune e vedere cosa succede magari ne esce una roba terza nuova diversa e chissà mai secondo lei io sono un profano gli autori conosco quelli degli anni sessanta perché per esempio un mogol non ha mai scritto una canzone per la musica da bar io credo parlando di grandi autori io credo che non gliela abbia mai chiesto nessuno credo veramente che intanto c'è sta mogol va bene però però Corrado Castellari per esempio ha scritto canzoni per il pop e ha scritto canzoni per il ballo è stato un grande autore Corrado Castellari l'ultima sua canzone pubblicata l'ha cantata Celentano secondo me è proprio sono due mondi che non si sono mai parlati ognuno ha fatto la sua strada devo dire che il mondo della musica da ballo ha fatto la sua strada con più tranquillità e continua a farla con un po' meno preoccupazioni di come la fa invece il mondo della musica pop dove basta guardare basta andare sulla sala da ballo però credo banalmente che non gli avrebbe chiesto nessuno alle volte le idee che funzionano sono quelle che non sono venute in mente nessuno anche se erano nell'aria io credo che chiedere a a Giuseppe Anastasi che è l'autore di cui vi parlavo che è l'autore di Arisa di scrivere una canzone per l'orchestra non sia vergognoso per me e non sia vergognoso per lui non è che ci si sporca le mani a scrivere una canzone per il ballo voglio dire mi piacerebbe che capissero che non è un mondo di serie B è un mondo di un'altra serie è un altro pianeta che forse è interessante andare a visitare posso aggiungere una cosa? anzi due cose volevo aggiungere una sul fatto faccio un passo indietro dando un piccolo consiglio agli autori che non hanno mai fatto musica da ballo per avere delle indicazioni è molto semplice ci sono delle orchestre importanti a livello nazionale non faccio nomi per non favorire nessuno però basta entrare nei loro siti ascoltare le ultime produzioni e mi collego a questo dicendo che rispondendo alla domanda del direttore il liscio si chiamava solo liscio una volta era molto diverso da quello che è oggi era liscio classico mazzurche tanghi insomma comunque dedicato molto distante tra l'altro a quello che era la musica pop parlavamo di mogol oggi beh poi c'era il ballo di gruppo vabbè quello era adesso invece nell'economia di una serata di liscio che dura tantissimo lo dico io perché io arrivo da un mondo come Franco Franco arriva dal pop rock io arrivo dalla pop dance e da cinque anni qualcosa ne sapevo ma è da cinque anni che gestisco le edizioni di Radio Sorriso e ho conosciuto l'orchestra ho conosciuto un po' il meccanismo e tutto e mi ha sorpreso prima ero anch'io abbastanza scettico dicevo è liscio è liscio mentre in realtà la musica da ballo ha trovato uno spessore artistico diverso ultimamente rivisitando le canzoni pop importanti con una chiave di lettura però facile moderna ma facile perché devi andare a far ballare le persone che hanno un'età insomma anche a volte non solo perché ci sono anche giovani che ballano a liscio ma comunque anche adulte quindi semplicità nei testi e nelle melodie però comunque non pensiamo che liscio sia fermo agli anni 80 70 90 quindi c'è stata una metamorfosi insomma su questo ecco ci tenevo a precisare questa cosa io lo ribadisco anche perché ho qui a fianco Ilenia che ne è testimone oltre che essere cantante fa parte appunto anche dell'orchestra Ilenia Festival della quale mi onoro essere anche io un componente cioè le orchestre di oggi hanno attinto anche da Mogol magari qualche brano di Mogol l'hanno anche rifatto l'hanno anche riproposto come dicevamo ieri sera in diretta radio l'ultimo brano di Max Gazet è una hit la stanno facendo quasi durante l'orchestra anche noi ci siamo preparati per farlo anche noi insomma dunque noi stiamo attingendo dal pop sono gli autori del pop che non si sono accorti di questi anzi secondo me qualcuno quando arriva il prossimo semestre si ha e se ne è accorto anzi anzi tu ieri sera in diretta radio mi hai ricordato il discorso dei 50 primavere 50 primavere quando sono andato la prima volta in un in un locale da ballo quella volta lì quei 20 anni fa che non c'ero mai entrato perché ripeto non ballo eccetera quando l'orchestra ha suonato una canzone dei Pu io sono rimasto basito infatti ne parlavo poi ne ho parlato poi con l'autore che era Stefano Dorazzi l'autore del testo ma grazie a Dio che la fanno perché noi facciamo pochi concerti anche se per tanta gente e la suoniamo non sempre ma tutte le sere in tutta Italia ci sono decine di orchestre che suonano 50 primavere e lui se ne accorge il suo direttore di banca se ne accorgeva ecco e come che domanda dalla sinistra la domanda pericolosa dalla sinistra dalla sinistra no lasciamo perdere passa il microfono devi fare una domanda allora chiaramente questi gruppi e naturalmente questi autori avranno bisogno di avere anche una visibilità poi successiva per le canzoni che verranno eseguite dalle orchestre perché secondo me il problema di molte orchestre che sono brave preparate hanno poca visibilità nel senso che poi non sono sorrette dalle televisioni gli manca effettivamente il materiale video per la promozione e questo va a discapito anche della canzone stessa e il fatto che non tutte le orchestre suonano quel pezzo perché magari non passa nelle televisioni dentro youtube nei vari social eccetera eccetera questo è molto importante soprattutto negli ultimi periodi perché a livello video a livello di produzione si mira molto a fare molta qualità rispetto a un tempo anni fa bastava fare una ripresa alla buona diciamo e andava bene tutto ora la tecnologia chiaramente è cambiata il digitale è arrivato sta crescendo in maniera esponenziale internet e noi ne abbiamo dati sensibili perché abbiamo già sperimentato in questo senso con degli spettacoli in diretta con numeri veramente interessanti e quindi c'è sempre voglia di vedere l'artista durante lo spettacolo durante la la sua performance e di sentire le canzoni canzoni vere perché purtroppo ci sono delle delle orchestre che hanno un un ottimo un ottimo staff musicale di musicisti ma mancano assolutamente di canzoni vanno a pescare le canzoni di altre orchestre che tra virgolette sempre le solite oppure scoprono nel cassetto una canzone di 4-5 anni fa che suonano inevitabilmente tutte le orchestre e questo Semino Rossi è diventato miliardario con le nostre con le nostre con le nostre orchestre in poco tempo perché chiaramente è una cosa che è saltata fuori così questo concorso qua secondo me può dare dei vantaggi enormi a queste orchestre perché a loro volta trovano nel loro plafond musicale dei pezzi secondo me molto belli fatti da autori veri e quindi non ci sono le famose repliche cover che ormai sentiamo tutte le parti perché quelli sono si va a tingere l'ado quando uno non sa più che scaletta fare tra virgolette perché chiaramente i pezzi di successo sono quelli gli evergreen sono quelli e la canzone una barra due canzoni nuove che vengono fuori durante il corso dell'anno sono sempre le stesse e la maggior parte diciamo sono chiaramente sono dei plagi puri secchi quindi negli ultimi anni è andata così ecco quindi secondo me questo concorso qui avrà intanto nuova linfa per tutto il panorama della musica da ballo daliscio musica popolare si chiama adesso tra altre cose e e questo qui e questo qui è sicuramente positivo anche per la discografia perché è molto importante la discografia come Paolo prima vi ha anche accennato perché questo pubblico qui è ancora il pubblico che compra i cd qui c'è un mercato importante secondo me ancora e diciamo che quelli che vendono tra virgolette sono sempre i soliti però si sta aprendo anche una strada per delle orchestre che diciamo erano meno quotate o con dei pezzi un po' particolari o con delle canzoni dedicate al folk che hanno un loro mercato e hanno una loro vendita importante questi 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 ultimi questa ultima parte sta dicendo diciamo andando a pari passo acqua ai famosi noti che sappiamo con numeri interessanti ecco quindi il fatto di avere canzoni nuovi stimoli nuovi e anche qualche cantante nuovo o cantante su questi gruppi secondo me può essere solo che positivo per tutto il settore per la radio per la televisione per i gruppi per le serate per i locali e per la gente che chiaramente ci va a ballare secondo me è una mossa strategica quella di vostra di Radio Sorriso in quanto sappiamo che il competitor lombardo dal primo di gennaio non c'è più e quindi diventa un'area molto forte molto dove si si è una radio nazionale che ha un target nazionale che chiaramente mira a fare musica italiana non tanto più la musica da ballo c'è qualcosa ma troppo poco e rimarrà sempre meno nei prossimi palisesti insomma dal primo gennaio eccetera eccetera comunque e lì chiaramente sia di locali sia di di orchestre e e anche di autori ce ne sono parecchi soprattutto nella Lombardia quindi si può pescare a piene mani insomma ritengo ritengo un'ottima un'ottima idea e e e non solo ma stiamo proprio parlando con Paolo e qui ho Massimo Artusi che collabora con noi già da un po' e e che ci aiuta per fare tutta una serie di sinergie soprattutto con internet e con le piattaforme multimediali perché ripeto internet sta crescendo in maniera esponenziale cioè durante i diretti durante le live ci sono numeri pesanti e numeri veri soprattutto quindi non sono ascolti inventati perché quelli che vedi sono quelli che sono connessi e ti guardano da tutte le parti del mondo quindi questo qui permette anche di dare una grandissima visibilità alla canzone all'autore e alla manifestazione perché abbiamo molti italiani all'estero che ci seguono e che amano questa questa musica e che da loro non esiste praticamente ecco quindi secondo me sarà un'ottima iniziativa e auguriamo un ottimo successo ventennale addirittura volevo appunto aggiungere a quello che ha detto quindi non era una domanda no ok no no magari mi sono perso una domanda ottimo grazie Michele no volevo aggiungere il fatto che la collaborazione la cosa stimolante è poi questa collaborazione di mondi un po' distanti ma che si connettono e soprattutto questo respiro nazionale che sta avendo il concorso cosa che nello spirito di Radio Sorriso Radio Sorriso è una radio del Triveneto però ascoltata molto in streaming abbiamo ascoltatori da tutta Italia e non solo e quindi questo concorso che si allarga proprio a livello nazionale anche con autori come citato prima importanti è la cosa è lo stimolo maggiore anche editorialmente per fare per fare questa cosa qua ovviamente poi noi faremo di ogni canzone e sarà anche il mio compito quello di affiancare le orchestre quelle più importanti ma anche i cantanti giovani il contributo video per avere la promozione oltre che radiofonica anche web e televisiva questo è fa parte un po' del lavoro però è giusto dirlo ecco questo sì non so se ci sono altre domande prego per seguire gli aggiornamenti c'è un sito di riferimento sarà il sito di Radio Sorriso immagino sì noi abbiamo abbiamo un piccolo sito che adesso non serve più oggettivamente che si chiama adaltrocanto.net e collegheremo metteremo un rimando per quelli che ancora ci vanno a trovare alla pagina del sito di Radio Sorriso in cui si parla della manifestazione www.sorriso.it Sorriso con tre R perché è importante perché eh? siamo ignoranti perché sappiamo che ci vogliono due R show guardiamo in avanti invece sorriso sì abbiamo una storia eh con tre R sì comunque comunque eh non so se Franco vuoi chiudere dicendo qualcosa no io posso solo dire che sono molto contento perché mh ho io ho un cassetto in fondo a destra nella mia scrivania dove metto le idee che mi piacciono ma che sono troppo difficili da realizzare o che non ho tempo per realizzare e siccome ormai ho tanti anni eh nel cassetto ci sono tanti di questi fogli però ogni tanto sono contento che uno esca e diventi non più solo un'idea per aria ma una una realizzazione concreta e di questo sono particolarmente contento perché perché in questo momento mette insieme un po' di cose che mi sono sempre interessate la forza della canzone come dicevo ieri sera io trovo che la canzone sia proprio l'idea di canzone sia una delle delle forme di comunicazione più potenti che esistono al mondo perché tu ascolti una canzone e ti ricordi dove eri quando l'hai ascoltata la prima volta ti fa venire in mente tutto come gli odori ci diceva ieri sera e poi perché in questo momento io sono sono molto convinto che gli autori di canzoni abbiano meno meno visibilità per riprendere il discorso di prima e meno dignità di quella che dovrebbero avere l'altro giorno sono stati annunciati in televisione su Rai 1 di pomeriggio i partecipanti al Festival di Sanremo hanno detto i nomi dei cantanti hanno detto i titoli delle canzoni e non hanno detto i nomi degli autori cioè è una roba ridicola il direttore artissimo non capisce nulla ci sono migliaia di siti internet che pubblicano testi di canzoni non ce n'è uno che scrive di chi è quel testo è sbagliato io trovo che siccome senza gli autori le canzoni non ci sono mi piacerebbe che ci fosse anche da parte della SIAE anche da parte della FEM che è la federazione degli editori musicali un'attività che serva a far capire anche al pubblico che dietro ogni canzone c'è qualcuno che l'ha scritta ci sono dei programmi televisivi dove ti obbligano a non dire l'autore della canzone e questa è la cosa più sbagliata in assoluto la canzone ma o per perché esatto oppure magari sì oppure perché magari quella televisione là ha un certo feeling con certi autori e con certi no dunque esatto esatto e dunque proprio all'inizio della trasmissione ti dicono no per favore non dire l'autore della canzone Giorgio tu no 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 era una battuta era una battuta è come nei nostri siti delle radio non esiste un direttore responsabile cioè no questa la cancelli va beh questa è roba fatti personali sono cose no è una battuta è il nostro è il vero direttore di tutte le radio non penso mai no ma Giorgio ci conosciamo da una vita dunque penso che ci sia io direi sì prego volevo solo ricordare che appunto il sito di riferimento anche oltre a sorriso e d'altro canto sarà classe1edizioni.it classe con la k proprio restando le cose scritte e tutto in lettere quindi classe1edizioni.it questo è diciamo per la parte editoriale però poi ci saranno tutti i link di rimando e non ci sarà problemi da una parte dall'altra arriverete conclusione la conclusione tanto la cosa bella da quello che è uscito anche adesso l'intervento di Giorgio ma anche di Franco che questo è un concorso che guarda gli autori dunque noi andremo a premiare proprio gli autori è ovvio che dopo di conseguenza ci saranno anche le orchestre perché eseguiranno il brano e via però non verrà votata l'orchestra che dopo il pubblico magari voterà l'orchestra perché è più simpatico uno rispetto a un altro questo è un altro discorso però il principio è quello di premiare gli autori fare venire fuori gli autori e poi l'altra cosa che vedo che secondo me è originale e che ci darà un'immagine diversa che farà rinascere un po' questo movimento è il fatto del concorso dei giovani gli under 35 credo che nel nostro settore a oggi non sia mai stato fatto niente in questo qualche concorso perché dico io c'è bisogno di ricambio generazionale spesso e volentieri ci sono orchestre dove posso parlare anche per me io ho una certa età e magari mi metto dietro dei musicisti che hanno 20 anni ma magari sono io quello che deve essere cambiato non più che il musicista non sempre sì va bene però voglio dire bisogna trovare un certo ricambio anche negli interpreti nell'interpreti questa la tagliamo no 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 tiela pure io dico la verità ecco una cosa che qualcuno magari forse non mi crede quello che dico è quello che penso non so non è quello che dico per opportunità o cose voglio dire diamo la possibilità diamo la possibilità anche a qualche giovane interprete di uscire insomma di venire fuori di avvicinarsi magari a questo mondo perché magari questo è anche noi stiamo cercando di aprirlo però è un mondo anche un po' chiuso intendiamoci perché spesso non è che gli autori non si avvicinano perché magari sai è difficile entrare è difficile entrare è difficile sì è difficile entrare ed è anche faticoso entrare e allora adesso noi con questo discorso dei giovani vediamo insomma se qualche ragazzo o qualche ragazza magari in qualche modo si avvicina e poi magari lo proponiamo a queste orchestre insomma vediamo possono essere anche le seconde voci delle orchestre intendiamoci perché ci sono dei coristi o delle coriste che insomma potrebbero benissimo cantare in qualche altro orchestra ma io se posso senza senza averlo concordato metterei un nome per la per la giuria della serata finale e mi piacerebbe che ci fosse Melody Melody Castellari che è la figlia di Corrado perché lei è proprio perfetta lei canta in un gruppo rock è figlia di uno che ha scritto pop e io di uno che ha scritto liscio scusate la semplificazione è multitasking anche lei se mi hai consentito all'ultima volta come Festival Show ha dato grandissima visibilità a Radio Berichina a Radio Bella Monella io sono convinto che questo concorso darà grandissima visibilità a Radio Sorriso e vi complimento con voi per questa idea e sono straconvinto che presto sarete la seconda a Radio del Gruppo e complimenti a Paolo Berlanzi Roberto Gennaro e a Franco Zanetti grazie grazie speriamo poverina è Ilenia ma lei canta è Ilenia è il pubblico da toccarle e basta cioè io interpreto le canzoni dunque magari le interpreterà anche tutte quante possiamo dire che chiudiamo qui io ringrazio gli ospiti che sono venuti diamoci l'appuntamento a metà di gennaio quando partiremo con ufficialmente con questa cosa e guarda i contatti perché poi questo video andrà anche su su youtube quindi per chi non beh i contatti per chi l'avesse perso cioè i contatti te li do a te perché basta andare sul sito di Radio Sorriso quindi sorrisocon3r.it e ci sarà la pagina dedicata al concorso da metà gennaio ma probabilmente anche prima classe 1 edizioni classe con la k tutto esteso in lettere punto it questo è il sito di classe 1 edizioni concorso d'altro canto chiocciolagmail.com per l'iscrizione al concorso autori e compositori e tutte le informazioni varie ok salutone femminile per finire io ringrazio ringrazio tutti voi che siete stati qui presenti dunque un grandissimo in bocca al lupo a tutti insomma dalle orchestre ma soprattutto appunto agli autori scrivete 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 grazie grazie Franco grazie a tutti voi grazie a voi grazie a voi grazie a tutti